wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi sfida numero 2 della settimana numero 8 di fortnite ci chiede di passare con un elicottero sotto a tre ponti quello rosso quello viola e quello blu veramente molto semplice ma per chi non se li ricordasse ecco qua ragazzi il ponte blu si trova esattamente tra la fattoria e parco pacifico quindi una volta che avrete preso un elicottero track ci passate sotto senza problemi proseguite per il corso del fiume per raggiungere il ponte rosso che come vedete si troverà davanti a voi quindi senza nessuna fatica proseguite attenzione a non farvi sparare e lo raggiungete ovviamente passandoci sotto per farvi vedere dov'è il ponte viola invece ragazzi vediamo se riusciamo alzandoci proprio in volo praticamente il ponte quello che c'è a pantano palpitante quindi mi alzo il più possibile in modo che ve lo riesco a far vedere senza farvi perdere tempo lo vedete praticamente già là in fondo e quindi ragazzi è davvero molto molto semplice questa missione la farete sicuramente in un colpo solo io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali ea me mi trovate in live adesso su twitch ciao